Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video dopo tantissimo tempo sono qui alla stazione di Cedrano per prendere il treno a Andrea Paola in palestra non pubblico video da tanto tempo perché mi sto prendendo una pausa in tutti i sensi da tutto, anche dalla palestra oggi è il primo giorno dopo circa una settimana sto ingrassando a vista d'occhio e detto questo ci vediamo a Paola fa un freddo cane, fa un freddo di Cristo per strada la gente si è vista attestrata un'altra piccola novità oggi è 27, 12, 2017 domani è il mio compleanno, 18 anni e niente mi stavo per fare gli auguri in anticipo ma porta sfortuna non fatelo mai, non si fa, non fatelo mai l'ho fatto io perché domani avrò 18 anni quindi andava fatto non scherzo blu che sono il burro, il barbe, il belberi, il rapper, il strangolo, fra come barba blu la tua barba, il tuo barba, il tuo barbe, rimancolo il calcolo e ci faccio il barbecue sono il ranking, der ranking, prometti scarpe da trekking sono più su scopi, ma il bus e le scende con un certo ti crolla lo stabile sono un bulldozer io nella vita ne ho fatte ricorse Junior Kelly Junior Kelly è un nuovo rapper emergente, un grande con la masca del tuo producer mi piace da andare la notte sono le pule fra queste mignotte un viso tra le fogne e dormo con tre streghe e rimando a casa con le calze rotte mi speri che mio padre le ha un morto di fame magica pula, arriva la pula fratello tu corri di più maria pula tu corri di più bb 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 ok c'è vento, non taglio i capelli da agosto vedate ok perchè devo fare il nuovo taglio ma non si azzarda non a crescere quindi non so come devo fare non ho idea non ho idea non ho idea non ho idea questa tipa è una scocciatura però è carina la sua scollatura ok mambo losco regalatemi i gucci frasco fare sta roba non apprezzo quanto cazzo sono frasco come ho nasciuto il sugo e l'ho apprezzo ok sono nel treno sono già a guardia ok scocchiamo un po' di rete al coso di corrente perché 1,80 euro mi saremmo pago per un biglietto e che dici no ultimo tramonto da minorenne e io ce l'ho in video e voi no ciao ok ragazzi allenamento finito e ho dimenticato una cosa fare il video dell'allenamento quindi no in realtà c'è un video ma è soltanto della panga piana che avete già visto quindi lo sto parlando detto questo detto questo andiamo a casa o meglio andiamo alla stazione andiamo a fare le sopracciglia andiamo a fare i capelli e detto questo ci vediamo in un prossimo prossimo video ciao buon natale passato mi raccomando ciao